Dal Vangelo secondo Matteo Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafanno sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Esaia, terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre Giordano, Galilea delle Genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti. E li chiamò, ed essi subito lasciarono la barca, e il loro padre, e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno, e guarendo ogni sorta di malattie ed infermità nel popolo. Parola del Signore Chiamati alla sequela Questo è il messaggio che l'Evangelo odierno vuole trasmetterci. Passate le festività natalizie con i Vangeli della nascita di Gesù, del Battesimo e della discesa dello Spirito Santo su di Lui, Oggi Matteo ci presenta i primi passi del Messia, nella sua missione di annuncio della parola. Ha saputo che il Battista è stato arrestato. Dovrebbe essere un allarme per lui. Stai attento, perché quello che è successo a Giovanni può accadere a te in ogni momento. Sarebbe stato umanamente accettato il suo timore, il suo nascondersi da qualche parte, finché non si fossero calmate le acque, per qualche tempo in solitudine, lontano da quella classe sociale che fin da bambino ha cercato di sbarazzarsene, non rifiutandosi di eliminare molti bambini, pur di essere certi di essersi liberati proprio di Lui. Invece la morte del Battista sembra dargli l'input, la spinta per partire con il suo progetto di annuncio della salvezza. Lascia Nazareth, dove ha trascorso l'infanzia, va sulla riva del mare a Cafarno, si trasferisce in città, diremmo noi adesso, in una località marittima, gente, pescatori, intreccio di culture, religioni. Da qui inizia il suo pellegrinaggio terreno, che durerà tre anni. Avente come primaria indicazione, convertitevi e credete nel Vangelo. Convertitevi, non ha mezzi termini. Sembra solcare i passi del Battista, nella sua tenacia ed austerità. C'è un bisogno, una necessità impellente, come nelle catechesi del suo precursore, di cambiare stili di vita, conoscere e riconoscere il Maestro, perché ora più che mai è in mezzo a voi, è vicino, si fa trovare, viene a guarire ogni sorta di malattia o infermità, ma soprattutto è il dottore per le anime. Sì, perché è proprio Lui quella luce che è sorta per coloro che stanno nelle tenebre, la grande luce che guida i nostri passi, che illumina il nostro cammino, che illumina ed apre i nostri cuori ad un incontro, una relazione profonda. Come l'hanno vissuta molti santi, come lo possiamo fare noi oggi, mettendoci in ascolto del Maestro, opera fondamentale, per avere solide fondamenta per la nostra fede, e poi trasmetterla a nostra volta. Ma il Maestro non ha voluto essere solo nel portare il messaggio, la buona novella del Vangelo. Ha camminato sulla via del mar di Galilea e lì ha visto, in un vedere che va oltre al senso fisico del vedere, alcune persone, alcuni pescatori, impegnati nel loro umile lavoro, di gettare o sistemare le reti per essere pronti alla pesca dell'indomani. Non ha cercato i suoi discepoli tra gli scrivi, tra coloro che erano già istruiti, che avevano una base teologica. Ha visto in profondità dei pescatori, due normali coppie di fratelli, come per dire l'annuncio del Vangelo parte dal basso, dalla vita comune di tutti i giorni. Non c'è bisogno di grandi saperi, ma di grandi cuori. Gesù inizia con Simone e Andrea, che alla sua chiamata lasciano tutto e lo seguono. Non sanno ancora a cosa li aspetti. Non sanno che Simone diventerà Pietro. Ma il bello di questa chiamata è che lasciano tutto e lo seguono. Il regno di Dio è vicino. Sembrano averlo individuato nella figura di Gesù. E la loro risposta è un'adesione perentoria. Poi vede altri due, Giovanni e Giacomo. Anche loro, incuranti della loro attività di pesca, portata avanti con il padre Zebedeo, lasciano tutto e lo seguono. Anche per loro, l'invito è sempre lo stesso. Seguitemi. Anche loro non sanno come sta per cambiare la loro vita. non sanno che saranno chiamati guairges, figli del tuono, per il loro carattere deciso verso coloro che non accolgono la parola del Signore. chiamati alla sequela, dicevo all'inizio, chiamati noi a seguire le orme del Maestro, la luce, chiamati sul modello dei primi discepoli a dire e dare il nostro sì e metterci in cammino in quella Galilea delle genti che è il nostro luogo di vita, le persone che frequentiamo, perché, supportati dallo Spirito Santo, sappiamo annunciare il Vangelo, non guarendo nessuno, forse non convertendo nessuno, ma almeno gettando un piccolo seme pronto per essere coltivato e dare i suoi frutti al tempo opportuno. Ribadendo la preghiera di Colletta, chiediamo a Dio che le nostre comunità diventino segno di salvezza e di speranza per tutti coloro che si mettono alla sequela di Cristo. Buona settimana a tutti!